Salve, sono AlexIgnazio93 e benvenuti a un nuovo episodio di Duskwood. Quella cretina, deficiente, stronza di Lilli ha messo il mio numero online e ha accusato me e Jake di essere i veri rapitori di Anna e forse abbiamo anche ammazzato un'altra persona random lì a Duskwood. Quindi c'è adesso il mio telefono online, chiunque lo può prendere e scrivermi roba. Bene, è stato molto bello, andiamo avanti e questo è l'inizio del capitolo 5 su 10 di Duskwood. Siamo a metà dell'opera e tra un po' una vittima la farò davvero, ovvero Lilli. Sei matta Lilli? Cosa hai fatto? Ho fatto ciò che era necessario. Non ci credo, ce lo puoi spiegare meglio. Dovrei essere io il rapitore? Che sto, che sto in Sicilia? Sono senza parole. Guarda, guarda, prima voleva buttarci fuori dal gruppo e ora che non ha potuto farlo si è messo, ma veramente. Eila! Cosa sta succedendo? No, Lilli vuole spostare i sospetti su di me e addirittura ha postato un video pubblico. Sì, sì, segnalate su YouTube, segnalatelo. Lilli? Non puoi voler dire sul serio. No, 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 mi sa che vuol dire sul serio. Ho, ho, ho! Thomas, è online dopo aver picchiato un bambino. Hai idea di che cosa significhi per Ignazio, Lilli? Sì, Jake sticazzi, ma io... Di quali conseguenze post portano con sé tali affermazioni? A parte che adesso chiamo il mio avvocato e ti denuncio per diffamazione. No, non lo sa. Perché è una cretina rincoglionita. Lilli, è vero? Ma cosa è vero? Lilli è vero? Lilli è vero? Ignazio è quella che erano a che fare con la spolizione di Anna. Ovviamente non è vero, rincoglionito testa di cazzo. Quindi, Thomas, veramente... Dovreste vedere quanto siano sospetti Ignazio e Jake. Invece, chi diavolo è Jake? Lacker. Come fa Lilli a sapere che si chiama Jake? Come fa Lilli a sapere che si chiama Jake? Lacker si chiama Jake? Ma non ne ho idea. Ecco, vedete? Lilli, come fa a sapere che si chiama Jake? Qualcuno che ritiene così importante nascondere la sua identità non può volerci aiutare. Wallace ti ha aggiunto. Che cazzo sei? Scusa, no, questo profilo è privato però è una bella foto, complimenti. Cosa hai fatto a quella po... No, scusa. Cosa hai fatto a quella povera ragazza? Conosci almeno il suo nome? Sì. Sai che è una famiglia amorevole che si preoccupa per lei? Sì. Conosco quelli come te. Ne ho visti parecchi in tv. Spero che ti trovino presto e poi marcirai a lungo in galera. Grazie Lilli, grazie. Nella realtà sarebbe qualcosa di assolutamente terrificante però va bene. Ecco, vedete qualcuno... Dove sono le prove contro Jake e me? Infatti, rincoglionita. Dove sono le prove? Forza. Butta le prove. A parte che sì, effettivamente... Aspetta, ma Lilli come va a sapere che noi abbiamo sbirciato nel cloud di Anna? C'è un sacco di roba. Vabbè, vi ho già spiegato tutto durante la votazione. Ignazio ha ragione. Sì, ce l'hai detto. E sembrava anche tutto plausibile. Ma come puoi essere sicura? Lilli, hai accusato pubblicamente qualcuno del rapimento. E addirittura dell'assassinio. Cioè, tra l'altro, no? Mamma mia. Lilli? Lilli, chiama l'avvocato perché tra un po' ti servirà. Chiama sto avvocato, Lilli. Voi mi avete obbligata. Eh? Lei non ha prove. Fine, è inutile che ascolti i deliri di stamatta. Lei non ha prove, punto. Ma abbiamo votato esattamente come volevi tu, Lilli. Eh, ma non voleva perdere. No, 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 Lilli. Lilli. Ci siamo, Lilli. Lilli, lo hai fatto solo per rimporre la tua volontà. Non mi toccare con questa casualità. Non smetterà fino a che voi non smetterete. Ho solo paura. Vabbè, allora vai. Fammi scrivere a gente pazza. È davvero così difficile da capire? Oh, Lilli. Non provare compassione nei suoi confronti. Cancela subito il video. Abbiamo tutti però paura. No, non provare... Cancela subito il video. Tanto non lo farà. Quindi non provare compassione nei suoi confronti. Ho fatto la cosa giusta. E continuo a pensarlo. Bastarda. Maledetta. Lilli era offline. Ora si metterà offline. Che già l'ha fatto, sì. Che facciamo ora? Eh. Qualunque cosa decidiamo di fare dobbiamo sbrigarci. E poi a questo punto immagino che ci sarà anche la mia foto in un'eventuale... No? Se vogliamo evitare che tutta Duskwood dia la caccia a Ignazio con i forconi e falci. Qual è Duskwood? Tutto il mondo. A parte che Duskwood... Sì, devono prendere l'aereo per farmi qualcosa. Però vabbè. Non riesco a immaginarmi di poterlo fare. Certo, però voi pensate di vivere in Germania? Duskwood è una generica città della Germania? Lì è figo poter pensare che da un momento all'altro la gente prende la macchina e viene da voi. Vabbè. Il potere dell'immaginazione. Ora mi viene in mente qualcosa. Ignazio, questo hacker può rimuovere il video in qualche modo? Eh, ho pensato anche io alla stessa cosa. Aspettate, io lo chiedo. Tanto... Dovrebbe sbrigarsi. Ok, Ignazio. Vai nell'Instagram di Lilli. Cerca la password tra le foto e entriamo su questo canale YouTube. Ho bisogno del tuo aiuto. Eleanor. Chi è la signorina Eleanor? No, la mamma Eleanor. La Milf Eleanor. Come può dormire ancora così tranquillamente? E chi sarebbe lei? Il mio nome è Eleanor. Eleanor. Conoscevo bene Anna. Caso così. Questa è di Duskwood allora. Conoscevo bene. Qualunque sofferenza lei le abbia inflitto, non l'ha meritata. Non ho niente a che vedere con tutto ciò. Questo ce lo salviamo per l'avvocato, non scriviamo cose... Tutto ciò. E ora non vuole nemmeno prendersi la responsabilità di ammetterlo. L'ho vista assieme ad Anna e non sono l'unica. Ah, e che aspettò? Che non l'ho mai vista a Anna. L'ho vista insieme ad Anna. Adesso si immaginano le cose. Lei è una persona orribile. Vorrei dire che sono dialoghi a caso. Che sono frasi un po' sconnesse ma la gente così esiste. Cioè questa è una situazione incredibilmente reale. Che paura. Non vorrei creare il panico ma il video di Lily ha già oltre 4.000 visualizzazioni. 4.221. Cosa sono le chiamate? Cosa sono i commenti? Boh, non lo so. Minchia Lily con un video così ha fatto più... Minchia... Vabbè, perfetto. Sono appena stato offeso da due persone. Solo? Secondo me già dovevano arrivarne una cinquantina. Cosa? Oh no. Vabbè, blocca i numeri tutti. Ecco cosa intendevo riguardo ai forconi. E Jake non sono riuscito a raggiungerlo. Per la prima volta lo trovo inquietante. È scappato da molto. Non lo farebbe mai. Metti che poi legge sta chat. Non lo farebbe mai. Io a suo posto lo avrei fatto. Grazie Dan. Dopo una tale accusa infamante. Anche... Anche io sono ancora qui. Sì. Ci sei. Mamma mia. Sì, ci sei. So cosa fare per il video. Segnaliamo... Lo sapevo! Brava! Giusto! Segnala! Segnala come inadeguato. Dai! Forza! Mettici... Pornografia. Tutto mettici. Tutto mettici. Lo potete scordare. Cinque persone non bastano di certo. Vabbè, chiamate amici e parenti. Fateglielo fare a loro. Create account falsi. Fate qualcosa. E anche se... Fosse. E anche se bastasse. Basterebbero sicuramente diversi giorni prima che venga controllato. Grazie YouTube. Mi dispiace tanto per te Ignazio. Non puoi farci niente, Jesse. E io avevo anche detto... No, ma un po' la posso capire, Lily. Vaffanbrodo. Stai registrando questa roba, sì. E ora? Vorrei una votazione contro Lily. No, sti cazzi. Tanto ormai la figura di merda l'ha fatta. Sti cazzi. Non mi interessa. Un'altra votazione, no. Tanto non la caccierebbero mai, nonostante tutto. E ora? Beh. In questo caso aspettiamo che Ignazio contatti l'hacker. Vi farò sapere quando Jake si farà vio. Ormai tutti sanno che si chiama Jake. Anche Lily. Non si sa come Lily conosce il suo nome. Adios! Hey, volevo... Ah, Jesse e Ricci. Hey, volevo chiederti ancora una cosa. Oggi posso dare via un po' prima? O meglio di no? Certo, nessun problema. Grazie mille, davvero. Essendo il capo ti posso chiedere naturalmente il motivo. Un altro appuntamento. Vorrei... Ah no. Vorrei fare qualcosa con Ignazio. Ok. Anzi, a dire il vero è più fare qualcosa per Ignazio. Non ti dirò di più. Non ti riguarda. Va bene, per quello che mi importa. Eh, va bene. Simpatico Ricci comunque. Quando non ci accusa alle spalle. Simpaticissimo. Ah, ok, no. Immaginavo. Cloud! Bene. Ci rivediamo quando avrò concluso questi minigiochi. E preghiamo il Dio che nel frattempo non mi arrivino dei marrani in casa. A dopo. Ricci ci ha scritto qualcosa nel gruppo leggende di Duskwood. Quindi mi appropinquo a aprire la chat. Forse ti posso rallegrare un po', Ignazio. Guarda cosa hai ricevuto da me Alfie al posto della cioccolata. Roger Garas Service. Bello. Mamma mia. Dunque, direi... Che avrei preferito una cioccolata. Sì, per un bambino, soprattutto la tazza. Capisco che non c'era nient'altro. Ad ogni modo ho raggiunto lo scopo. Alfie era felice. Vabbè, l'importante è questo. Me la cavo piuttosto bene coi bambini. Sì, e per questo ti elogiamo anche. Ma ora forse non ti andrebbe di raccontare la storia vera. Azzo. Ricci, sei un bugiardo? Alfie ha scravventuto la tazza sul pavimento. Immaginavo. E poi... E poi si è gustato qualcosa. Continua. Che carini che sono. Come amici. Come amici sono carini. Anch'io mi sono gustato qualcosa. Vabbè, la pausa merenda hanno fatto. E chi ha dovuto raccogliere i cocci mentre voi vi siete gustati il tutto? Il vecchio Grey. Simpatia a non finire. Sarà contenta, Jesse. Anche Jesse sta ridendo, Ignazio. Anche se cerca di trattenersi. Mamma mia. Le risate, risate. La felicità mentre io vengo tormentato da gente sconosciuta. Vabbè, bene. Nel frattempo potremmo cercare di capire perché Thomas abbia reagito così. Come ha reagito Thomas? Ora un voto di memoria. Sì, concordo. Sapeva che c'era... Ah, scusate. Che Thomas ha praticamente... Ha scosso un bambino con handicap per farsi dire la roba dell'uomo senza volto. Scusate. Si tratta perfettamente lo schema del sospettato principale. No, a me sembra il contrario. Oddio, allora... Magari uno è preoccupato perché dice Cazzo, forse questo bambino mi ha visto e può dirlo alla polizia, robe varie. Però, se come abbiamo visto, se ha detto l'uomo senza volto, immagino che durante il rapimento di Anna abbia indossato la maschera, quindi come fa a riconoscerlo? No, questa proprio cosa ci aveva raccontato Alfie. Anzi, è proprio per questo momento di sclero con Alfie che io abbasso di molto i miei sospetti su Thomas. È solo un povero scemotto preoccupato per la sua fidanzata, anche se non erano più in buonissimi rapporti a quanto pare, però vabbè. Forse voleva saperne di più da Alfie, ma va... Però, cioè, il fatto che abbia rotto il giocattolo... E il giocattolo si è rotto per caso. Cioè, questa cosa la dobbiamo approfondire, perché va bene tutto, ma gliel'ha rotto per caso o l'ha minacciato? Beh, come detto, possiamo solo supporlo. Grazie a Ricci non posso più parlare con lui. Eh, beh. Wow! What the fuck? Ah, no, ok, wow, arriva un cliente che... Per loro è una cosa incredibile. Davvero? Sì, davvero! You-hoo, che non si scrive così. Forse gli tedeschi lo scrivono con la Jay. Vabbè, addios, addios. Cosa te la dico sempre... La dico sempre come cannavacciolo. Oh, Jake! Aiutami! Ciao, Ignazio! Finalmente! Che è successo? Porca puttana! Ti spiego cosa è successo. Lilia ha pubblicato un video. Io e te siamo i colpevoli e tutti ci credono ora. Ci sono delle persone strane che mi scrivono colme di rabbia. La cosa di cancellare il video neanche la dico perché è veramente ovvio. Ecco, me ne occuperò io. Ti prego, fai in fretta. Lo dirò agli altri. Grazie, Jake. Veramente il mio potere stand. Mi angelo custode. Allora, ho appena parlato con Lily al telefono per farle cambiare idea. Purtroppo non ha funzionato. Ho chiesto a Jake di occuparsene. Così impari, Lily. Così impari. Il nostro eroe. Vorrei vedere te se li si mettesse per un video... Ah, va. E tu come ci avresti aiutato? Esatto. Tu che parli, parli dall'ospedale. Voglio vederti. Ah, non rispondi. Zitto. Zitto stai. Bravo. Infatti. Thomas si ribella. Ah, il video non c'è più. Minchia, è velocissimo. È stato... Fulmine. Il video non c'è più. Immagino di sapere come abbia fatto. E sarebbe... Avanti, forza. Dici un po' la tua idea. Ma è chiaro. Lui l'ha minacciata. Lo sai, vero? Che lui è un hacker. Quindi magari non c'è bisogno che minaccia le persone. Possibilmente fare... Forse l'hai scordato, dato che non ti tocca. Ma la sua ultima minaccia non è avvenuta molto tempo fa. In quel caso non c'è l'altra possibilità. È vero, mi stavate per cacciare dal gruppo. E ora è diverso. Sì, perché Lily non ascolta, è una cretina. Secondo me è una cosa tipica di lui. E tra l'altro, quando gli hai parlato del video? Mezz'ora fa? Ma... Beh, circa cinque minuti fa in realtà. Sì, sì. Circa cinque minuti fa. Veloceissimo. Una cosa... Mamma mia. Io non me ne intendo di computer. Ma ad essere onesti, non credo che ce l'abbia fatta in così poco tempo. Per me conta solo che il video sia sparito. Lei mi ha calunniato gravemente. Esatto. 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 Maledetta. Schifose. Intendo nel senso buono, Ignazio. Lo so. Così. Per appienare le divergenze. Così, vabbè. E per questo voglio darti un consiglio. Bene. Un consiglio da Dan. Vai, Dan. Spara. A dire vero lo do a tutti. Chi non è online è pregato di leggere più tardi. Ok? Tutti voi dovreste tenervi lontani da quel tipo. Perché se alla fine dovesse emergere che è stato lui... Cosa che a me sembra improbabile. E parliamoci chiaro. C'è qualcuno di più sospetto? In questo momento siete un po' tutti sullo stesso livello ormai. Allora nessuno vuole essere stato della parte sbagliata. In realtà a me sembra più sospetto è in questo momento Dan che insiste per l'hacker. Io trovo più sospetto qualcun altro. Non dico chi. Così. Lasciolo. Il seme del dubbio. E allora... Ah, non è una domanda. Perché sai, con la traduzione di sto gioco non si può mai sapere. Allora... Non è la prima volta che vi dico... Ve l'avevo detto. Adesso che mi viene in mente non gliel'ho nemmeno chiesto nessuno che dicono queste cose. Ma sì, è super antipatico. Adesso che mi viene in mente non gliel'ho nemmeno chiesto. Però ha ragione Ignazio. Vabbè, Thomas, figurati. Ma manco... Ma non rispondo neanche. Ma andate bene a fanculo. Vai, Jake, ciao. Ma intanto come l'ho messo... Io comunque... Dico la verità, Ignazio. Gli ho raccontato una cosa. Un giorno te lo racconterò, te lo prometto. Qui ci sono dei misteri. Dei misteri. Però già col fatto che lei sapesse subito che lui si chiamasse Jake... Vuol dire che c'è qualcosa sotto nel suo passato. Ed è un'eternità che te lo sento dire. Mettiti un attimo nei miei panni. Cioè, ma porca vacca, Jake, veramente. Già tutti ti accusano. E ho scelto le opzioni più politically correct possibile, eh? Sono stato super diplomatico. Ignazio. Il governo mi ha le calcagna. Ma ha a che fare in qualche modo con Anna a questo punto? Chiediamo. No, è una cosa che riguarda solo me, mamma mia. Che cosa hai fatto nel dark web? Cosa hai fatto, eh? Ma vorrei che tu capissi almeno in parte alcune delle motivazioni che mi spingono ad agire così. E vorrei che tu capissi che sono uno dei buoni. Se così si può dire. Ad ogni modo mi sono invischiato in delle faccende che sarebbe meglio non rendere mai pubbliche. Beh, questo spiega alcune cose. Questo continua a nascondersi. Già il fatto che ci ha detto il nome è una roba incredibile. Sempre che sia suo vero nome. Ma immagino sia... Boh, non lo so, a sto punto. Beh, sì. Mi dispiace se ti crea dei problemi. Vabbè, in realtà per come... Allora, da un punto di vista della scrittura... Se lui ha detto di chiamarsi Jake e poi... Ah, non mi dovevo lasciare andare così tanto, allora Jake è il suo nome, è vero. Beh, sì. Mi dispiace se ti crea dei problemi. Ad ogni modo, Lily ha pubblicato soltanto... Lily ha pubblicato soltanto alcune gravi informazioni sul mio conto. E ogni informazione che mi riguarda, anche il più piccolo dettaglio, potrebbe condurre da me chi mi sta cercando. Per questo nascondi la tua identità. E hai una fotoprofilo banalissima, sì. In vero è così. Per quanto mi dispiaccia, ma dovrò prendere dei provvedimenti riguardo alla mia sicurezza. Vabbè, la grammatica al solito lasciamo una perdere. L'importante è seguire il cuore. Devo tenere in conto che chi mi cerca potrebbe essere sulle mie tracce e che potrebbe addirittura trovarmi presto. Per un po' di tempo probabilmente starai da solo. Significa che ti togli di torno? Mi abbandoni? Mi abbandoni? Ok. No, non sparirò davvero del tutto. Ok? Sarò sempre qui nel tuo cuore. Ma ora devi assumere tu il comando, perché finora che ho fatto... E infatti, quindi tutto normale, come sempre. Perché finora, vabbè. Sì, come sempre. Sì, carino, Jake. Poi scopriamo che ha venduto delle armi. È una cosa incredibile. A parte gli scherzi, so che mi posso fidare di te. Me lo hai dimostrato ben più di una volta. E il tutto ha anche un lato positivo. Due punti. Non leggerò più le tue chat private. Dunque, da ora sono la tua unica fonte di informazioni? Sì. Non leggerò più le tue chat private, ma ancora avremo la possibilità di leggere le chat degli altri. Bellissimo. Sì. Il tempo vola. Ti ricordi qual è la nostra ultima pista? Scusate, ma io in tutto questo voglio vedere questa cosa qui. Sono a leggerità? Ok, niente. Ciao, Jesse. Sei una patatina. Ti ricordi qual è la nostra ultima pista? Eh, sì. Aspetta, aspetta. Devo essere onesto. Vediamo se me la ricordo. L'ultima pista riguardava una certa Jennifer. Era il diario di Anna. Eh no. E c'era il dottor Ulrich e gli antidepressivi. La misteriosa Jennifer, il diario di Anna, il segno del corvo. Vabbè, più o meno siamo lì, eh. Io direi la misteriosa Jennifer. Questa è una roba che ancora non abbiamo appreso. Ok, giusto. Purtroppo non ho avuto tempo per occuparmene, ovviamente. Soprattutto se Lily si mette a fare video. Ma credo che tu sia altrettanto capace quanto me. Beh, se mi dici cosa devo fare... Continua a muovere i cubetti, Ignazio. Vai, muovi i cubetti. Tu hai cinque amici che sono di Duskwood. Thomas, Cleo, Jesse, Richie, Dan e Lily. Non la consideriamo, però vi ragioni. Vorrei che scegliessi uno di loro e che chiedessi a lui o a lei della nostra misteriosa Jennifer. Per te è indifferente chi scelgo? Tanto dice che cazzo me ne frega. Diciamo che mi fido del tuo sesto senso. E anche di quanto ti fidi della persona che deciderai di scegliere. Ora devo andare. Ma mi farò vivo quanto prima. No, a dopo. Mi immagino che... Mi pare di ricordare che l'opzione Ehi, Jake... Sia una roba tipo... Ehi, non farti catturare. C'è bisogno adesso. Allora. Dobbiamo chiedere di una certa Jennifer di Duskwood. Che risale a quando Anna era giovane. Giovane, giovane, giovane. Jesse, no. Perché non è di Duskwood. Richie è di Duskwood, quindi lo tiriamo in conto. Thomas non sa mai un cazzo. Dan... Allora, Richie o Cleo? Cleo, però, è la migliorissima amicissima di... Di... Come si chiama? Di Anna. Quindi io punterei... E poi Richie... Ancora forse non è chiaro esattamente quanto sia amico di Anna. Eccetera, eccetera. Beh, io direi... Cleo. Ho bisogno del tuo aiuto. Vai, Cleo, dimmi. Dammi delle informazioni su Jennifer. Ho bisogno del tuo aiuto. Ora sono da mia mamma, Ignazio. Non possiamo rimandare? Eeeh... Ah, l'avevo dimenticato. Però non... Ma dato che sei già online... Mamma mia, super maleducato. Vabbè, è tempo di scrivere sta cosa e basta. Ti viene in mente qualcosa riguardo a Jennifer di Duskwood? Hmm. Non so esattamente dove vuoi arrivare. Ha a che fare con i boschi di Duskwood. Circa, sì. Che lei ha fatto qualcosa di terribile non lo sappiamo. Perché sembra essere Anna che ha fatto qualcosa di terribile. Al massimo a Jennifer è successo qualcosa di terribile. Non intenderai la ragazza che è stata trovata morta nei boschi tempo fa. Esatto. Proprio quella J. Perché sembra una coincidenza un po' strana. Che c'è una ragazza trovata morta nei boschi. L'avevo quasi dimenticato. Vai, Cleo. Vai. Forza Dicci di più Scava nella tua memoria Come ti puoi ben immaginare Nel frattempo c'è lei così E sua mamma Cleo quindi aspetta mamma Sto scrivendo a un mio amico Come ti puoi ben immaginare tutta Duskwood Erei in uno stato di inquietudine Vai avanti Vai avanti Maleducatissimo però Vai, vai Dimmi Forza Forza Vai avanti Per quel che ne so Il suo assassino non è stato trovato Ovviamente All'epoca si pensò Che l'assassino non fosse di qui E ben presto tornò la pace a Duskwood E Jack lo squartatore Però aspetta Perché si pensò questo? Che l'assassino non era di qui Non fosse di qui? Sai com'è la gente? No, non lo so Com'è la gente? Che si conoscono tutti? Cioè di meglio del pensiero Che il proprio vicino sia un assassino E beh, sì però Vabbè Quelli di Duskwood sono un po' particolari E anche Jennifer Non era di Duskwood E questo è un aggravante Alla teoria Azzo Non crederei che Anna Abbia a che fare Con questo caso In un certo senso Forse sì La mettiamo proprio Speriamo di no Speriamo, speriamo Ma saranno passati Almeno dieci anni Credo sia tutto quello Che so al riguardo Infatti secondo me La traduzione Che abbiamo sentito Ora qui un po' baro Perché già so delle cose La traduzione Che abbiamo sentito Nel vocale Del medico Dello psicologo Di Anna Io non so adesso Allora io credo Che sia in lingua inglese Un po' in tutto il mondo Oddio Forse in Germania Hanno lasciato La lingua Tedesca normale Però C'è lui O forse hanno cambiato idea Durante la scrittura Perché c'è lui Che le dice Anna eri solamente Una bambina In realtà Questo fatto È esattamente Quello di cui si parlava Sono passati dieci anni Anna Quanti anni avrà? Ventotto Ventisei Ok ma anche ne avesse Trenta Ok no Anche ne avesse Tipo ventiquattro No? Buttiamo così Dieci anni prima Ne ha quattordici Quindi secondo me Hanno usato il termine Sbagliato E può essere fuorviante Child Bambina E' più Eri giovane Era questo Eri piccola Ma non bambina Che tu ti immagini Una nana Dell'asilo Questo era giusto per dire Infatti non me lo ricordavo Sta cosa E quando ho sentito l'audio Per un attimo Mi cervello ha fatto Però adesso Ora che ci ho detto La roba di dieci anni Lo posso anche dire Tranquillamente Tanto non cambia niente Solo per Far capire questo errore Di traduzione O di scrittura Non lo so Vabbè Mi hai dato più informazioni Di quelle che mi aspettavo Vabbè A presto Vai da tua mamma Per la ricerca di domenica Aspetta un attimo Ignazio Perché lo hai chiesto a me? Perché penso che mi aiuti Con Hanna E sei la sua Super amica del cuore No Non intendo questo No Cleo Perché proprio io? No Preferisco Jesse Quindi Per una volta Non prenderemo La stellina Ma è bello che ci sia Quest'opzione Volendo Credevo No mi fido di te Non c'è l'opzione Sei la migliore amica Di Anna Quindi magari sai cose di Anna Perché proprio io? Grazie Ignazio Anch'io mi fido di te Yes Amicizia A dopo Bella Bene Il cliente è andato via Ci ha comprato Dei dergi cristallo E beh E l'ha fatto solo Per poter utilizzare Il bagno Vabbè Anzi Un signore Mi hai messo in conto L'uso del bagno No Minchia Incazzato Forse non dovevo scherzarci Ah no Ora si riprende No Ignazio Sei assunto Prima abbiamo parlato Di Thomas Sì E probabilmente Sarò di nuovo solo Ma credo che dovremmo Farlo parlare Dov'è il cliente Ricci? Oh Voleva solo Usare il vostro bagno Oh mannaggia Possiamo tornare Un'altra faccenda Eh Jesse Dai Parlate Parlate ancora Di Thomas In realtà Sta parlando Ricci Di Thomas Sì E ve lo dico Di nuovo Possiamo giusto Una volta Tanto Per cambiare Non immischiarci Eh Boh E perché dovremmo Farlo Dobbiamo salvare Anna Dobbiamo No Indagare Su tutti quanti Allora Si è bloccato il gioco Perché non sta andando più avanti Sta chat Infatti Pensavo Ricci Guarda quanto sta pensando Ricci in questo momento No il cazzo Si è bloccato il gioco Ma è solo in questi giorni Che succede così Tutti questi anni Non si è mai bloccato così tante volte Vabbè Taglio E perché dovremmo farlo Siamo sinceri Non otterremmo nulla in questo modo Per rimproverare qualcosa Al nostro Ai nostri amici Per rimproverare qualcosa Nel rimproverare qualcosa Al nostro amico Già molto coinvolto Il nostro amico però Si è comportato come un idiota Proprio vero E in quanto amici Dovremmo poter essere in grado Di consigliarlo Ignazio puoi decidere Per conto tuo Come vorresti procedere Con questa situazione Lasceremo le cose come stanno Tipo voto per Lascere le cose come stanno No No In generale sono sempre Dalla parte di Jesse Ma perché A parte tutto E comunque È una delle più È sensatissima Ricci Sennò non gioco più C'è un'altra cosa Che dovreste sapere No Posso farvi una confidenza Così Scaviamo Scaviamo Nell'amicizia Nei sentimenti Certo Puoi chiederci tutto Nell'intimità Ecco Cosa Ignazio? Da un po' di Ah ok no Pensavo si riferisse Ai messaggi Della gente a casa No parla del Del tizio mascherato Da un po' di tempo Ricevo chiamate Intimidatorie Cosa? Ma è terribile Da quando Lily ha fatto il video? Intendi quelle persone Di prima? No Aspetta Le ricevo da Così vediamo se me lo ricordo Da quando Poco dopo Aspetta Da quando sono con voi Poco dopo aver parlato Per la prima volta Con Dan Sai che non Non me lo ricordo Esattamente Da quando sono con voi In generale Si Mi ricordo Se addirittura Boh mi pare Che queste chiamate Ma queste No Questa chiamata C'è da sempre Da molto prima Poi ora ci ha messo il video Ma prima Devi farti i cazzi tuoi Me lo ricordo Sta cosa Allora il video di Cleo Non è stata l'unica minaccia E nemmeno l'ultima Oh Ignazio Non ne avevo idea Avevate già abbastanza Inizio Ah non ho paura È il momento di farsi fichi Nonostante io in realtà Mi stia cacando sotto Ah non ho paura Oh santo cielo Mi dispiace davvero Molto Ignazio Vabbè Basta E Benvenuto nel club Quale club Il club dei marchiati Immagino Dei minacciati Quale club Beh Io sono stato minacciato Marchiato E Ignazio viene minacciato Per telefono Potremmo fondare Una confraternita Vabbè Buttiamola sul ridere Beh Insomma La più grande Migliore Stabile Confortevole Confraternita Del mondo Non la facciamo Nel bosco Però Risate A crepapelle D'accordo Mamma mia Jesse Visto quanto siamo Coraggiosi E pronto? Siete rincoglioniti Non ci posso credere Che siete di nuovo Facendo le vostre battute Ma si Dai Jesse Si scherza Si ride Ad ogni modo So chi non ne può entrare A far parte Ah è una battuta Suggesti Ok Aspettate Meglio Meglio così Aspettate Questo significa Che deve essere Uno del nostro gruppo E se conoscevi Il numero di telefono O è un altro hacker O è l'hacker O è uno di voi Solo noi avevamo Il numero di Ignazio Quando Quando ho iniziato Con le telefonate Aspetta Ma allora Il repitore Ha visto il mio numero Sul cellulare di Arna Anna ha mandato il mio numero Anche a qualcun altro Qualcuno l'ha inoltrato No Può essere anche In Il Allora Io penso Allora Ora come ora È facile pensare agli altri Ma per il momento Nessuno mi sembra Davvero sospetto Forse Dan Ma Dan in questo momento È in ospedale Adesso si mette a fare Le cose I video nei boschi No Boh il repitore Ha visto il mio numero Sul cellulare di Anna Per adesso È la mia ipotesi Esatto Exactly Oppure uno del nostro gruppo Ha notato il tuo numero Eh sì Per quale motivo però Solo Thomas Potrebbe essere così Coglione Parliamo nei più tardi Nella chat di gruppo Ci sarà sicuramente Una spiegazione Mi auguro davvero Che tu abbia ragione Sono davvero curioso Oggi questa è la chat Delle faccine tristi Il lavoro ci chiama Non dimenticate Boh non dimenticate State attenti Eh Sono quelle frasi di circostanza Che uno dice Certo Se c'è qualcosa A farci sapere Ok Ignazio Sì mamma Sì mamma No no lo farò Grazie Sì mamma Chissà se esiste davvero qualcuno O qualcuna Un giocatore Trich Che odia Jesse Come personaggio Secondo me Jesse è scritta apposta Per Non essere odiosa Boh A dopo Adios Ciao Oh Hai ripristinato Con successo Vediamo Vediamo Questa foto di Anna Poi scusa Dan levati Comunque secondo me Eh All'attrice Di Anna Le hanno Scusami C'è questo Ah no Ah sì È lo stesso vestito Le hanno detto Senti Ci serve una foto Hai questo vestito Molto bello Che ti calza pennello Molto bello Che ti calza pennello Bravo Ho fatto la rima Vai Vai E fai foto varie Ok Potete venire tutti online Per favore Che c'è Proprio Dan Che ci chiama la raccolta Stranissimo Te lo dirò Quando ci saranno tutti Sì Nel mondo reale Puoi aspettare anche Una vita Per una cosa del genere Thomas Jesse Boh Ora Dan Ha scoperto Chi è il colpevole Dan Il più grande Detective Di tutti i tempi Che succede ora Dov'è Cleo In tutto questo Vabbè Lily Chi se ne fotte Ma Cleo Ah non si è bloccato il gioco Mi sono spaventato E Non credo che Lily verrà Spara Dan Il fatto che abbia Avuto un incidente Non era colpa mia Ok Che significa Attenzione 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 Che significa Un appuntamento congestivo, ne ho tirato un bidone, vabbè Denna, adesso manco a dirlo in chat da tutti, vabbè vabbè, ok, che imbarazzo, beh, mi sono bevuto uno o due whisky, devo essere onesto attenzione, questo dettaglio è importante sì, uno o due, se ne siete bevuti almeno tre o quattro ma sulla strada di casa i miei freni hanno smesso di funzionare aia e per questo ho perso il controllo e ho avuto un incidente sabotaggio, nessuno dice niente ma non saprei cosa dire è molto strano però, cioè lui era ubriaco, ha avuto un incidente ma contemporaneamente qualcuno gli ha sabotato i freni boh, che ne dici oh, povero, è terribile tipo una cosa che direste per chiunque altro, vabbè Denna, adesso manca a fare la vittima, non mi credete Den, io non ti credo affatto ti credo Den una via di mezzo beh, Den, avevi bevuto alcol di solito non va tanto d'accordo con le macchie so di cosa parlo vabbè, non sono così ubriacone di certo non guido quando sono ubriaco a parte che io mi ubriaco davvero molto raramente perché l'alcol lo reggo da Dio lo reggevo perché è da un anno quasi che non bevo alcol ma quando sarà scaduto l'anno in cui ho promesso di non bere più alcol le mi sfonderò come? no, sto scherzando non imitatemi eh, di solito non va tanto d'accordo con le macchine non ha nulla a che vedere con questo eh, vabbè qualche altra opinione vabbè, allora anche fosse vero, no? perché qualcuno doveva manumettere i freni della sua auto bene, gente molto bene Den, ora ho flan aspetta aspetta aspetta, no questa è la chat di gruppo puttana mi farebbe piacere potergli credere eh, lo so Jesse lo so hmm hmm sì, più che altro cioè, se è vero perché? lo trovo davvero ridicolo invece che se n'è andato e poi è tornato credete ad un mostro nel bosco che comunque mi ha chiamato e l'ho visto quindi è già più plausibile credete? eh, ma se io dico che l'incidente non è colpa mia riprovviso iniziano tutti a tacere eh, beh se ha ragione then smettila di esagerare esagerare? madonna io non attacco di cuore esagerare? di solito si analizza tutto criticamente ora però nessuno pensa che forse l'incidente ha qualcosa a che fare con il tipo strano senza testa eh vabbè senza volto ora che non mi da sì, no certo ci avevo pensato eh lo trovo piuttosto anomalo cioè sì boh è un po' un po' strano davvero ma non c'è alcun tipo di legame anche perché prima doveva essere marchiato no? lo doveva marchiare eh esatto eh esatto tu ad esempio sei stato marchiato tu ad esempio non sei stato marchiato vabbè l'italiano tu ad esempio non sei stato marchiato giusto non combacia con tutto ciò che sappiamo fino ad ora dunque può succedere qualcosa solo a Ricci è anche vero che prima ci ha minacciati con Cleo e Cleo non è stata marchiata solo allora è collegato ufficialmente al tizio delle cornacchie se proprio se proprio sarebbe il tizio dei corvi vabbè comunque è l'uomo senza volto che però ha a che fare con i corvi non a caso a parte il mio sfondo qua bellissimo col corvo vedete adesso tutto ha un senso e poi quando voi avviate Duskwood c'è la musichetta e poi sentono le cornacchie i corvi che gracchiano va bene mi piacerebbe farti un paio di domande a questo punto chiediamo scusami allora chiedi hai visto qualcuno nei pressi della macchina? no partiamo già benissimo no si tratta di un parcheggio piuttosto buio sarebbe quindi difficile notare se qualcuno ha fatto qualcosa con la macchina si penso di si vabbè se è buio chi sapeva che ti trovavi al Black Swan a parte me Jesse e tu solo Jesse vabbè ma Jesse ha avuto l'appuntamento con oddio Jesse ha fatto l'appuntamento con me per uccidere Dan in realtà è una psicopatica è una cosa incredibile quello di Whiskey non lo chiedo perché magari si arrabbia la tua macchina ha già avuto problemi con i freni? no quanto sei vicino a Anna? vero effettivamente Ray chatta con la sorellina di Anna ma con Anna di per sé devo misurarle in cifre o cosa? boh da 1 a 10 quanto sei vicino a questa persona da 1 a 10 da 1 a 10 5 ah vabbè amici di amici 5 6 allora dice 8 no che ne so ignazio devi vederla così Dan sta antipatico a tutti lo teniamo così come mascot no devi vederla così se siamo tutti in giro Dan e Anna vanno molto d'accordo ma quando i due sono soli non hanno granché da dirsi ah tutto chiaro ho capito vabbè quindi amici di amici vabbè ci sta hai per caso dei nemici? secondo me l'abuso secondo me sì ma sciocchezze sciocchezze pinzillacchere sciocchezze hmm cosa? niente come va una battutina in questo momento non ero nemici prossima domanda quanti bicchieri di whisky ti sei bevuto? questa è la domanda fatidica quanti bicchieri di whisky non mi farei spaventare lì 7 più o meno porca troia ma non è quello beh 7 bicchieri di whisky al momento non ho altre domande potrebbe datarsi di una persona estranea diamogli ragione per il momento però boh cioè in questo momento potrebbe tranquillamente aver fatto tutto da solo bene Richie so che la carriola si trova qui usano il termine carriola vabbè so che la carriola si trova in zona vostra vorrei che le dessi un'occhiata e cosa dovrebbe cercare vabbè a sto punto se sono stati manomessi i freni no? Jesse anche te manipolazioni un cavo tranciato piume di corvo che ne so certo se lo vuoi davvero ecco bravo bravo oh ecco questa è un'idea intelligente e come se lo voglio però pagherai Richie che già non c'ha clienti vuoi perdere tempo con te? certo voi altri vedrete sì lo faremo beh buona fortuna Richie adios oh finalmente Richie ha un lavoro jesse e den è per questo la polizia è venuta da me è per questo la polizia è venuta da me davvero? certo ho riportato il mio sospetto il mio dovere da buon cittadino questo del buon cittadino non me la bevo nemmeno io cioè praticamente lui alla polizia ha detto no non sono stato io sono stati evano messi i freni va bene come hai fatto a sapere che la polizia è passata da me? conosci Alika? no conosci Martin Roth? no quello che gestisce la biblioteca si den è chiaramente uno che gestisce che frequenta le biblioteche perché dovrei? vabbè lascia stare il nome ho chiesto ad una mia amica quando suo padre quando suo padre sarebbe ritornato in biblioteca ah per la cosa perché mi serve urgentemente un libro che però è in prestito è la cugina della mia amica infermiera oh sto paesucolo è Duskwood appunto l'ospedale non è nemmeno a Duskwood e comunque tutti ah l'ospedale non è nemmeno a Duskwood ok vabbè si ci sta sei un paesino e comunque tutti sanno tutto anche io ho sentito qualcosa ho sentito il mio amore per te dilla stava a dire una cosa del genere dilla Dan giocati tutto anche se non dovrei vai dai che una certa ragazza ha litigato con un'infermiera perché voleva intruforarsi senza autorizzazione nella mia camera ah che paesucolo eh 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 anzi eh eh è andato tutto molto male e come ora ora chiedo un'altra possibilità vai Dan quando riuscirò dall'ospedale vorrei invitarti un altro appuntamento vai non devo battere il tavolo qua perché ho sentito montando i video ho sentito che fa un casino se faccio così oh Dan non so in questo momento ho un inciuccio con che poi magari mi sta pigliando per culo non sappiamo se Jesse in realtà è una psicopatica sai ho tanto tempo per pensare qui e mi vengono in mente tantissimi motivi per i quali tu mi hai tirato un bidone quella sera ma una donna come te si trova solo una volta nella vita vero vero pensaci intanto a me basta d'accordo Jesse comunque è una collativa va bene ci sta almeno non rende tutto pesante poi magari per gentilezza Dan ricordati un no è sempre un no grazie di avermi detto che Dan mi dovrebbe grazie di aver detto che Dan mi dovrebbe pagare sono troppo carino ah basta era finita ah Cleo Ignazio ah già dobbiamo anulare la ricerca nel bosco che è successo chi hanno ammazzato this is questo è il mio ultimo avvertimento se voi entrerete nel bosco qualcosa di orribile accadrà io vi osservo vi sto osservando mia mamma è arrivata questa lettera cosa diav maledizione abbiamo togno quel pezzo di merda non si ferma davanti a nulla quel pezzo di merda non si ferma davanti a nulla bastardo ma non mandiamo queste lettere alla polizia teniamo tutto per noi nella busta c'erano anche delle mie foto scattate di nascosto la polizia non Cleo Cleo non si saluta in quel modo Cleo no tagliamo questa foto che può essere pericolosa un po' nostalgica nella busta c'erano no si scherza nella busta c'erano anche delle mie foto mi è venuto un brivido lungo la schiera non appena ho visto le foto ti ricordo di cosa stai facendo esatto perché quelle pose Cleo cosa stavi facendo in quel momento chi stavi salutando chi stavi commemorando sembrerebbe che mi stessi vedendo qualcuno è importante potremmo ottenere informazioni ottenere alcune informazioni riguardo a chi ha scattato la foto così vicino poi certo più tardi ci penserò in tutta calma e sai una cosa non è la prima lettera foto profilo aggiornata mamma mia Jesse ti prego basta che più bella di così si muore e sai una cosa non è la prima lettera ha nascosto ah sua mamma poi tra l'altro ha nascosto le altre lettere no le ha ignorate si le ha lasciate lì sulla scrivania vabbè comunque siete veramente un paese di rincoglioniti non voleva farsi spaventare sì ma la polizia ha visto le lettere come una sorta di conferma o siete estremamente coraggiosi o molto ingenui in modo molto carino di metterle o entrambi io le avrei detto rincoglioniti ma vabbè ad ogni modo queste queste lettere questa lettere madonna questa lettera le ha fatto cambiare idea o forse sono state le foto che mi ritraggono vabbè tua mamma sta bene chiediamoglielo anche se non mi interessa no vabbè un po' mi interessa si è arrabbiata e allo stesso tempo preoccupata che non è una combinazione umanamente possibile però va bene al massimo alterni le due cose sta roba è allo stesso tempo una roba di scrittura che odio il che è una combinazione davvero pericolosa la ricerca era molto importante per lei una domanda Cleo perché no perché la ricerca è così importante per lei siete arrivate all'ingresso della speranza ma sai una cosa quella in mezzo non ha alcun senso perché è così importante per lei perché una ragazza è scomparsa facciamo questa siete arrivati all'ingresso della speranza giusto? sì la donna è uno del gruppo della chiesa che in realtà minaccia tutti resterò ancora qui per un po' e le racconterò quello che è successo negli ultimi tempi ah quindi non sono a casa neanche in modo che capisca perché in questa situazione in qualche modo mi sembra di doverglielo in modo che capisca perché in questa situazione forse perché non è andata la polizia prima ha ignorato le lettere di minaccia pensi che sia una buona idea devi decidere per conto tuo io non mi metto a dire come vi dovete comportare con le mamme vostre puoi farmi un favore ignazio? al momento non ho tempo per i favori naturalmente puoi dire agli altri che non ci sarà alcuna ricerca nei boschi? va bene certo tu occupati di tua mamma grazie grazie davvero ok allora gente gente è veramente gente gente la ricerca nel bosco è annullata la prima domanda che dovrebbero fare tutti è tu che cazzo ne sai eh? cosa? la mamma di Cleo ha ricevuto questa lettera zam zam potevamo anche non mandare le foto di Cleo ma a sto punto è giusto che gli altri capiscono la gravità della situazione anche perché secondo me prima o poi sarebbe venuto fuori ah ignazio non ci hai fatto vedere le foto di Cleo santo cielo questa lettera non è nemmeno la prima povera Miranda 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 ah 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 nome allora in realtà Cleo di cognome fa Miranda e sua mamma si chiama Miranda Miranda come i fratelli Mario no? Mario Mario Luigi Mario bellissimo e povera Cleo Cleo lungo la via di casa posso anche togliere alcuni manifesti grazie Jesse carino da parte tua quanto sei umana quanto sei umana non c'è di che meglio che chiami i genitori di Hannah non avevamo deciso di prendere parte sembri così calmo Thomas no vabbè questa è l'unica risposta decente che posso dare le altre due sono un po' bruttine non avevano deciso di prendere parte dell'organizzazione è già andato a telefonare ciao quando il mio cellulare quando il mio cellulare non smette di suonare può essere solo a causa vostra togli le notifiche imbecille cosa c'è questa volta un lupo mannaro peggio la mamma di Cleo peggio Lily cazzo forse no vabbè non l'avrebbe fatto ridere cosa Ignazio wow effettivamente mi è uscita cazzo a sto punto avrei dovuto fare Lily scusate mi è scappata questo momento assolutamente terribile poco delicato da parte mia però dai facciava ridere facciava ridere Miranda ha ricevuto Miranda Miranda ha ricevuto una lettera minatoria la ricerca del bosco nel bosco deve essere disdetta perché altrimenti succederà qualcosa di terribile almeno abbiamo la prova definitiva che tipo di prova che Jake che l'hacker è colpevole che tipo di prova che hanno è sicuramente nel bosco sembrerebbe che ti sia tradito da solo sì sì no ma questo già avevamo accurato e vi dico di più è nella casa del coraggio è lì è nella casa della prova di coraggio questo non ci può giustare così Jake lo sappiamo da tempo che ci vuole tenere lontani dal bosco sì vabbè il signore dei boschi se non possiamo cercare Anna può anche tradirsi ma non cambia nulla sarebbe comunque il famoso ogo nel pagliaio non aspettiamoci nulla non possiamo semplicemente subire in silenzio adesso devo diventare il leader che questo gruppo merita non possiamo oh così non troveremo mai Anna Anna certa condivido la tua frustrazione così come il tuo entusiasmo ma temo che abbiamo le mani legate considerando la grandezza dei boschi non abbiamo speranze e mettere anche effettivamente se Anna fosse dentro quella casa nel momento in cui Ricci ha fatto così si doveva sentire qualcosa anche solo un magari rimbavagliata non lo so sempre che sia viva perché vabbè ma legati considerando la grandezza dei boschi non abbiamo speranze e mettere anche in pericolo le nostre vite non ne vale la pena e un po' lo capisco l'ho detto ai genitori di Anna prima ti avevo fatto una domanda Thomas adesso la devo rifare ah un attimo oh che bravo Thomas che risale la chat per leggere la domanda non mi dice quale riscrivila mamma mia un santo quest'uomo un santo no per quello che ne so Miranda ha preferito che stessero lontani da tutte queste cose per quanto possibile eh sì bello da parte di Miranda 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 tutto questo deve essere terribile per i genitori di Anna boh a sto punto il dubbio è legittimo Lily avrà raccontato l'oro di me ma non saprei può essere ha fatto anche un video mi fate sapere se succede qualcosa certamente offline then offline Thomas offline Jesse offline basta mi sa che è arrivato quel momento è arrivato proprio quel momento ma credo che sia perfetto perché così si conclude questa puntata senza bisogno di fare a dopo a dopo basta si conclude questa puntata di Duskwood in cui aspetta ogni volta faccio così poi non mi si vede la faccia si è conclusa questa puntata di Duskwood in cui non abbiamo risolto niente sappiamo solamente che gli eventi di Jennifer risalgono a dieci anni fa ma ancora vuol dire tutto e niente Jake è un ricercato nei boschi non ci si può andare perché sennò ti succedono cose brutte quindi come andrà avanti questa storia quale sarà la prossima mossa che dovremmo fare tornerà Jake per salvarci Lily avrà chiamato il suo avvocato e le prenderemo tutti i soldi vedremo questo è altro con Duskwood e quindi ci vediamo al prossimo episodio ciao ciao